Un metodo educativo che non perde di mordente, anzi che diventa ancora più importante 50 anni dopo. Oggi siamo in situazioni diverse. Le Barbiane di oggi non sono in cima magari alle montagne, in campagna, ma sono nelle nostre metropoli. Abbiamo il dovere di educare questi bambini, per esempio, che arrivano soli da noi? Abbiamo il dovere di educarli attraverso una riscoperta proprio del gusto dello studio, della parola, del rimetterci insieme, del non essere superficiali. Un'educazione che va nei contenuti, va sobria, rivolta subito anche come capacità di emancipazione. È il grande dono di Don Milani. Estremamente attuale, una pedagogia che parte, si dice in questo momento, dal basso, dalle periferie, ma che cerca di farlo diventare un linguaggio. Nel periodo dei social, dove tutto diventa virtuale, sapere invece che bisogna essere rigorosi con se stessi anche nel compito educativo, credo che sia importante.